Ci sono stati momenti di tensione in tarda mattinata al casello di Orte sulla 1. Gli agricoltori, in presidio, hanno tentato di bloccare la circolazione, ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz. Il presidio di agricoltori al casello è stato spostato, ma Felice Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti, ha spiegato che loro resteranno lì a protestare sempre legalmente e pacificamente, anche preso le distanze da coloro che stamane hanno bruciato bandiere della Coldiretti. Sempre stamane una quarantina di mezzi agricoli hanno paralizzato il traffico della Cassia Nord in prossimità di Porta Fiorentina, una delle porte principali di accesso a Viterbo. Poco prima del solito raduno sulla Cassia accanto al cimitero, alcuni manifestanti si sono fermati di fronte alla sede della Coldiretti Viterbo, dove hanno strappato le bandiere che erano sulla porta, bandiere che sono poi state bruciate in segno di protesta. Alle 11 il corteo di trattori, partito dal punto di ritrovo, ha percorso via della Palazzina, piazzale Gramsci e via Garbini, paralizzando di fatto il traffico.